Grazie a tutti. Ma il diktat rischia di spaccare la coalizione, questa sera agli incontri decisivi. Intanto nel pomeriggio in Consiglio regionale giureranno i nuovi assessori della Giunta Solinas all'Industria, delega tenuta di interim dal Presidente e dovrebbe andare Anita Pili. Circa 20.000 firme raccolte sabato e domenica nei 33 monumenti aperti, il record dei visitatori presso il faro di Capocaccia, ma anche la casa di reclusione seguita dall'aeroporto militare, dalla torre di San Giovanni e dalla torre di Sulis. Ben ritrovati i telespettatori di Catalan TV. Questi erano i titoli sonore caldissime in casa centrodestra in nottata da Cagliari. Dopo un'altra riunione fiume pare essere arrivata l'indicazione di Mario Conoci per la candidatura a sindaco. Oltre a Lega e Pisdaz ci sarebbe la firma dei riformatori sardi. Nelle altre forze politiche si discute e riflette, ma la partita è tutt'altro che chiusa. Sarà una giornata decisiva per il centrodestra algherese. La linea tra le possibilità di vedere una coalizione unita e quelle di assistere a una spaccatura è sottilissima. In queste ore è tornato in auge il nome scaturito inizialmente dal tavolo regionale, quello di Mario Conoci, sostenuto da Lega e Pisdaz che erano andate sull'Aventino neanche una settimana fa. Tutte le altre forze politiche in questi giorni hanno discusso allora sull'opportunità di candidare Francesco Marinaro o Nunzio Camerada, il primo espressione dei riformatori, il secondo di Forza Italia. Oggi torna sulla scena con prepotenza la candidatura leghista e sardista, con quello che molti all'interno della stessa coalizione definiscono diktat cagliaritano. Un'indicazione che, secondo quanto emerso in queste ore, godrebbe sì della firma di alcuni coordinatori regionali, ma che non avrebbe ampio consenso a livello locale. In casa Forza Italia se ne parlerà in una riunione convocata stasera, ma anche gli altri partiti valuteranno il da farsi. C'è poi un altro problema che non va assolutamente sottovalutato ed è quello relativo alle liste che, tra l'altro, dovranno essere presentate entro sabato mattina. Alcuni candidati avrebbero mal digerito l'imposizione arrivata dal tavolo regionale, caldeggiata invece da Lega e Pisdaz, lasciando intendere un possibile passo indietro. Insomma, il diktat cagliaritano, invece di portare una definitiva sintesi sul nome del candidato sindaco, rischia di mettere a repentaglio la tenuta del centrodestra alle prese, con un delicatissimo equilibrio e con una guerra di nervi. Vogliamo che Alghero diventi un comune plastic free e questa è una delle nuove sfide che il Movimento 5 Stelle lancia in vista delle elezioni amministrative di Alghero. Diventare comune plastic free, secondo i pentastellati, porterebbe alla città diversi benefici per l'ambiente a partire dalla netta riduzione dei rifiuti. Il risultato arriverebbe grazie ad una serie di azioni, sia dirette, come l'eliminazione della plastica monouso negli uffici comunali, sia indirette, incentivando il vuoto a rendere, promuovendo l'utilizzo di confezioni biodegradabili e installando le fontanelle di acqua potabile. L'installazione di fontanelle di acqua potabile refrigerata apporterebbe netti vantaggi economici alle famiglie algheresi. Per fare un esempio, con 5 centesimi per ogni litro e mezzo di acqua prelevata dalla fontana, una famiglia di 4 persone che consuma giornalmente una cassa d'acqua avrebbe un risparmio annuo di circa 600 euro. Quindi, sottolinea il candidato sindaco Roberto Ferrara, non bisogna chiedersi perché bere l'acqua pubblica, ma perché non lo si stia già facendo da tempo. Questa semplice operazione avrebbe innegabili vantaggi, perché l'acqua della fontana pubblica è sicura e controllata come quella in bottiglia, ma non produce rifiuti. Con la riduzione della plastica si rispetta l'ambiente, si evita l'inquinamento atmosferico dovuto al trasporto e quindi le emissioni di CO2. Ha un costo fino a 10 volte inferiore rispetto a quello di commercio. Vale la pena ricordarlo, l'ambiente è uno dei punti base del nostro programma, dichiara ancora Ferrara. E far diventare al Garon Comune free plastic può avere solo vantaggi per tutti, per noi che vivremo meglio e per i nostri figli a cui lasceremo un mondo migliore e più vivibile. E avremo ovvi vantaggi anche dal punto di vista economico, sia per l'amministrazione, sia per le singole famiglie con minori sprechi, minori spese in casa, minori spese per il servizio di netezza urbana e minori tasse, conclude l'aspirante sindaco dei Cinque Stelle. Questo pomeriggio i nuovi assessori della giunta regionale giureranno prima della discussione generale sulle dichiarazioni programmatiche rese mercoledì scorso dal presidente Cristian Solinas. Si tratta di Roberto Frongia, assessore ai lavori pubblici, Gabriella Murgia all'agricoltura, Quirico Sanna, antilocale urbanistica, Giorgio Todde trasporti, Valeria Satta, affari generali e Andrea Bianca Reddo alla cultura. Potrebbe giurare anche Anita Pili, designata da Sardegna 2020 per la delega all'industria, tenuta ad interim sinora. Dallo stesso Solinas, il resto della giornata sarà interamente dedicato agli interventi dei consiglieri sulle dichiarazioni. Ognuno può parlare per un massimo di 15 minuti, quindi è probabile che la seduta proseguirà domani o giovedì. E giovedì, scusate. Ed ora ci lasciamo, c'è la pubblicità tra poco. Prima di riallacciarci alla politica, apriamo la seconda parte del Tg con la cronaca, perché un caso di meningite da meningococco di tipo B è stato registrato in un ragazzo di 22 anni di Olmedo, ricoverato domenica notte nella clinica di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Le condizioni del giovane sono serie, fanno sapere i medici di malattie infettive e al momento la prognosi resta riservata. Il servizio di microbiologia della U di Sassari ha fatto l'accertamento diagnostico di meningite meningococica, confermato poi con diagnosi di siero gruppo B della struttura di direzione di igiene e controllo delle infezioni ospedaliere dell'azienda ospedaliera universitaria sassarese. E' stato prontamente avvisato il servizio di igiene pubblica della TS Sardegna, ASL Sassari, per l'attivazione dei protocolli di profilassi. E' proprio il servizio di igiene e sanità pubblica della TS Sassari, ASL Sassari, ha comunicato che nella giornata di ieri è stata avviata l'analisi del contesto epidemiologico e l'azione di profilassi farmacologica verso le persone che sono entrate in stretto contatto con il giovane nelle 72 ore antecedenti in ricovero presso la clinica di malattie infettive della U di Sassari. Il servizio di igiene e sanità pubblica conferma inoltre di aver avviato una stretta sorveglianza sanitaria verso tutte le persone, parenti ed amici che hanno frequentato il giovane di dieci giorni precedenti al manifestarsi della malattia. Allora è rivolto l'invito di contattare il proprio medico di medicina generale in caso di importante manifestazione febbrile. L'attenzione dovrà restare alta per tutto il corso della settimana. Per prevenire l'insorgere di futuri casi di meningite infettiva da meningococco B, il servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL Sassari ricorda agli utenti la disponibilità del vaccino gratuito per tutti i nuovi nati dal 1 gennaio 2015 e a pagamento per tutti gli altri. Torniamo alla politica adesso, ma per parlare dell'appuntamento elettorale più ravvicinato, quello del 26 maggio con le europee. Meno di due settimane al voto, il partito pirata italiano fondato nel 2006 su ispirazione di quello svedese si presenta per la prima volta in Italia alle elezioni europee con una propria lista. Abbiamo intervistato la capolista nella circoscrizione isole Stefania Calcagno in questi giorni ad Alghero. Stefania Calcagno è la capolista per le elezioni europee per il partito pirata. In pochi forse lo conoscono. Cosa è il partito pirata? Il partito pirata nasce nel 2006 in Svezia in seguito alla chiusura di The Pirate Bay, da qui il nome, che magari può sembrare un po' altisonante, un po' pericoloso, il partito pirata. Il partito pirata nasce appunto il nome sia dal Pirate Bay ma anche dal significato etimologico greco che è osare, cercare, andare da qualche parte. Noi in pochi anni abbiamo già conquistato diverse nazioni in Repubblica Ceca, oggi i sondaggi ci danno il primo partito, abbiamo 22 seggi su 200 del Parlamento, in Lussemburgo abbiamo due seggi al Parlamento, in Islandia ne abbiamo sei e per la prima volta quest'anno ci presentiamo anche in Italia perché cerchiamo di portare quella che è la democrazia liquida, il nostro mix fra la democrazia rappresentativa e la democrazia invece diretta, anche in Italia. L'obiettivo dunque possiamo dire per queste europee in particolare, magari anche per il futuro, è farsi conoscere anche in Italia e perché no anche in Sardegna. Assolutamente sì, poi soprattutto insomma io ho vissuto tanti anni qua in Sardegna, qua ad Alghera, quindi poi la Sardegna è stata la precursora di internet, pensiamo a video online, pensiamo a Euripi, pensiamo a tutto quello che la Sardegna ha fatto per l'Italia e poi oggi ci ritroviamo invece con un digital divide pazzesco. A Milano tutti hanno la gigabit, fibra ottica, a Roma tutti hanno la gigabit, fibra ottica. Qua se abbiamo la DSL in qualche paesino siamo anche fortunati. E questo purtroppo ci crea questo gap di accesso alla rete e di velocità e soprattutto di possibilità di accesso alle tecnologie e alla conoscenza, noi siamo la forza della conoscenza, che non va bene, non va bene, non va bene assolutamente. Sicilia e Sardegna hanno bisogno di essere al passo con i tempi perché già ci sono tanti problemi, già c'è la disoccupazione, già abbiamo l'immigrazione che anche questo sta creando delle tensioni sociali non indifferenti. Quindi noi dobbiamo andare a cercare di portare Sicilia e Sardegna su dei temi che sono europei. Faccio un esempio, la continuità territoriale. Io sono andato avanti e indietro e ho preso 600 euro di traghetto perché c'è uno, ce n'è. Quello devo prendere. Non c'è concorrenza, non c'è assolutamente niente, un oligopolio forse se non dire monopolio. Questo vale per i traghetti, vale per gli aerei. Immaginiamoci invece di concertare tra tutte le isole europee, a livello centralizzato, a livello globale, un contratto che dice vuoi fare la continuità territoriale? Ok, Grecia, Corsica, Sardegna, Sicilia, Azzorre, Baleari, grandi player sul mercato. Concorrenza, prezzi bassi, servizi buoni. Questo è uno dei messaggi che noi vorremmo portare, cioè centralizzare a livello europeo certe problematiche, perché le problematiche qua non le hanno mai risolte, sono 30 anni che ognuno dice le risolviamo, le facciamo, poi non le risolvono mai. Allora noi le portiamo a livello europeo, noi siamo un partito fortemente europeista, vogliamo gli Stati Uniti d'Europa e crediamo fermamente che l'Europa possa risolvere i problemi delle periferie, soprattutto parliamo anche di isole che siamo disagiati, è inutile che stiamo a raccontarcelo. Il gap dell'insularità da risolvere. Assolutamente, sì, esatto. E a proposito del prossimo appuntamento con le europee, ma anche quello successivo alle comunali, c'è tempo fino alle ore 12 di domani, mercoledì 15 maggio, per presentare domanda per il coprire ruolo di Presidente di Seggio nelle sezioni elettorali del Comune di Alghero in sostituzione rinunciatari. È possibile produrre apposite stanze mediante compilazione del modulo presente sul sito istituzionale dell'ente da trasmettere al Comune di Alghero unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità utilizzando l'indirizzo e mail PEC elettorale chiocciolapec.comune.alghero.ss.it oppure consegnarlo direttamente all'ufficio elettorale via Catalonia 52 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15 e 30 alle 16 e 30. Gli interessati dovranno essere obbligatoriamente già iscritti all'albo dei Presidenti di Seggio, costituisce titolo di preferenza l'esperienza pregressa come Presidente di Seggio oppure in sottordine di segretario o scrutatore. Per eventuali chiarimenti si può contattare il signor Fulvio Secchi allo 079 997 8910. Facciamo un'altra pausa per la pubblicità. Proseguono le conferenze all'Università delle Tre Età di Alghero. Questa sera alle ore 17 nella sala del seminario di Via Sassari sarà la professoressa Laura Viglietto, docente di Storia e Filosofia, a parlare alla platea delle tappe dell'Unità d'Italia. Lo abbiamo già detto ieri nell'edizione del TG che anche quest'anno Monumenti Aperti ad Alghero si è confermata un successo straordinario. Vedere tanta partecipazione e tanta competenza fa bene alla città, al territorio e alla cultura. Con queste parole il Sindaco Mario Bruno rivolge un grande ringraziamento agli studenti algheresi, ai loro professori e alle decine di associazioni che hanno contribuito a rendere fantastico il weekend algherese con i monumenti aperti. Alghero è un patrimonio invidiabile, fantastico, che grazie a manifestazioni come questa contribuiamo a valorizzare e diffondere. Circa 20.000 le firme raccolte sabato e domenica nei 33 siti aperti, a cui si sono aggiunti due itinerari alla scoperta della muraglia e del territorio. Il record di visitatori presso la casa di reclusione, seguita dall'aeroporto militare, dalla Torre di San Giovanni e dalla Torre di Sulis. La novità di questa edizione è stata il faro di Capocaccia, che ha registrato circa 800 firme, dato confermato dal numero di prenotazioni raccolte. L'apertura della struttura, resa possibile dalla disponibilità del comando zona, fari della Sardegna, della Marina Militare, nella persona del capitano di fregata Giuseppe Maruccia, ha richiesto un'importante organizzazione che ha coinvolto l'amministrazione comunale, la fondazione Alghero, la società Inausi, il parco di Portoconte e la compagnia Barracellare, presenti sul sito per le due giornate. Tantissime le prenotazioni ricevute, gestite in ordine cronologico per la creazione di 13 gruppi di visita al giorno per un massimo di 30 persone per turno, poiché la visita prevedeva eccezionalmente la visita alla struttura e alla lanterna, non era possibile, fanno sapere dall'organizzazione, gestire un numero di persone superiore per via degli spazi molto ristretti. Le visite sono state accompagnate dagli interventi musicali degli studenti del liceo e dai fratelli Dario al violino e Riccardo Pinna al piano, aspetto che ha ulteriormente arricchito la già straordinarietà del luogo. Grande successo e apprezzamento anche per l'itinerario in barca, la scoperta delle antiche mura, come detto, iniziativa promossa dalla Nauti Sub di Alghero, posti esauriti per i tour in programma, per un totale di oltre 400 presenze. La manifestazione ha confermato anche la valenza turistica, ossia sono stati migliaia i turisti che hanno voluto visitare i monumenti che erano previsti in questa edizione. Ed ora sentiamo un'intervista realizzata ad una studentessa del liceo artistico Costantino, ovvero Beatrice Cerri, studenti dell'artistico Costantino che erano appunto i ciceroni, si possono così definire, al faro di Capocaccia. Questa ragazza frequenta la classe terza A della sezione architettura e in occasione della visit, della edizione scuola del numero 17 di Monumenti Aperti, anche gli studenti della terza A e Vag Grafica hanno svolto Arterranza Scuola Lavoro facendo ricerche, fotografie, cartoline e segnalibri. La sezione di architettura ha realizzato anche un plastico dello stesso faro di Capocaccia. La squadra era composta anche da alcuni allievi delle classi prime e seconde. Ma sentiamo l'intervista. Buongiorno al liceo artistico Francesco Costantino di Alghero e oggi vi presenterò il faro di Capocaccia. Il faro, datato 1864, è stato voluto dall'ufficio regio del Genio Civile ed è alto 186 metri sul livello del mare e grazie a questa altezza vante il titolo di alto più alto della Sardegna e d'Italia. Oggettivamente dal pieno di Calpessio è alto 24 metri. Che esperienza è per voi poter descrivere una struttura di questo genere, di questa bellezza, le persone che vengono per monumenti aperti? Beh, assolutamente un'esperienza fantastica, soprattutto per quanto essendo nel nostro territorio è assolutamente un'esperienza molto bella. Cosa dicono le persone? Beh, sono rimaste comunque stupefatte dal paesaggio, dal territorio in sé, ovviamente non avendolo mai visto. Davvero un sito di straordinaria bellezza, ma per l'anno 2019 Alghero è tra gli altri 10 città d'Italia che ospiteranno le prove concorsuali del bando per 100 borse di studio per merito indetto dall'Istituto Giuseppe Tognolo a favore degli studenti che intendessero iscriversi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Le sedi sono Milano, Roma, Brescia, Cremona e Piacenza nell'anno accademico 2019-2020. Il concorso si svolgerà in contemporanea sabato primo giugno. La partecipazione alle prove concorsuali è gratuita. Gli studenti interessati dovranno compilare in via telematica attraverso il sito www.borsepermeritouc.it. La scheda di adesione entra non oltre le ore 12 di mercoledì 22 maggio 2019. Per gli studenti della Sardegna le prove avranno luogo presso il Liceo Scientifico Fermi di Alghero. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie per averci seguito.